Storie di donne e di uomini che non si sono fatti schiacciare, storie e testimonianze di atleti che hanno affrontato e superato i problemi e non si sono mai arresi di fronte alle difficoltà. E il senso del libro Golden Set del giornalista Rai Marco Fantasia, ieri pomeriggio la presentazione nella sala consigliare di Palazzo Baronale a Torre del Greco, un evento organizzato dalla società sportiva Parco Città con il patrocinio del comune. Anche i grandi campioni possono attraversare dei momenti di difficoltà, di sofferenza, noi li vediamo sempre come personaggi quasi invincibili e invece anche loro affrontano delle problematiche. Una delle cose più importanti è capire come le hanno superate perché una delle chiavi principali è stato il tirar fuori il problema, soprattutto per quanto riguarda la chiave psicologica. Quindi l'invito che parte un po' da queste testimonianze di questi campioni è proprio non rimanete soli, non rimanete isolati, tirate fuori il problema e in qualche modo auspicabilmente si andrà verso la risoluzione. Questa serata è promossa da una società sportiva locale, il Parco Città Volley, con il patrocino del comune di Torre del Greco. Quale può essere invece il ruolo delle società sportive? Perché in alcune storie del libro sono state alleate un po' delle atleti, in altre forse hanno messo anche delle pressioni che hanno finito per sconvolgere almeno temporaneamente della vita di qualcuno. È verissimo, occorre delicatezza perché non sono soltanto macchine da sport questi ragazzi e queste ragazze, sono delle persone e in quanto tali vanno anche considerate per il loro aspetto umano. È molto importante che le società, d'ora in avanti qualcuno lo sta già facendo, si attrezzino con un mental coach o con uno psicologo proprio per dare uno strumento in più perché non va allenata soltanto la muscolatura di questi ragazzi, ma va allenata anche l'aspetto mentale e va affrontato l'aspetto mentale, così come si affronta un infortunio fisico, va affrontato anche il problema di natura mentale. Quindi questo è assolutamente importante e speriamo che in futuro si vada sempre più verso questa direzione. Presidente Di Martino del Parco Città che ha promosso l'evento della presentazione dell'ultimo libro di Marco Fantasia, Golden Set che analizza anche fragilità che possono avere gli atleti. In questo il ruolo di sostegno delle società quale può essere oltre all'allenamento fisico? Quando si parla di sport, di squadra soprattutto, non è mai occasionale riuscire ad ottenere dei risultati, ma è appunto il riscontro di una serie di iniziative che riescono a mettere insieme una serie di persone che fanno sì che la squadra possa ottenere risultati. Parlo dell'organizzazione complessiva e di una società sportiva che non è solo fatta di atleti, ma dietro agli atleti e dietro ai risultati c'è tutta un'organizzazione. E poi inevitabilmente anche l'occasione per celebrare i risultati di questa stagione, una promozione in D ed altri bei successi per il Parco Città. La pallavola è fiore a rocchiello della nostra società. Noi siamo una polisportiva, facciamo anche calcio e nella nostra storia abbiamo fatto diversi sport. Quest'iniziativa è estremamente piacevole, importante, un'occasione per stare insieme e per evidenziare gli sforzi e i sacrifici che sono stati fatti per raggiungere i risultati. Per arrivare a questo ci vorrebbe da parte soprattutto dell'amministrazione una maggiore attenzione verso lo sport cittadino. Grazie a tutti.